ah ciao pokemon mega evoluzioni scienza combattimenti di galli elementi magici sai cosa fare benvenuto nella nostra nuova casa tesoro ah c'è troppa acqua qui sta zitto saluta i nostri unici vicini vuoi essere amico di mia figlia no è nella sua stanza forse cazzo suoi ricariche totali bene gli oggetti sono pronti ciao posso chiamarti in modo stupido inappropriato come ti chiami io sono vera adoro i pokemon vorrei essere amica di tutti i pokemon del mondo possiamo essere amici ti sei fatta di crack devo andare da papà ora ciao penso che passerò tutto il giorno a segarmi ah 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 anche se qualcuno abbia avuto la stessa idea oh dio aiutatemi vi prego aiuta che succede hai dovete mangiare 5 volante una volta prendimi le palle cosa le mie palle sono in quello zaino quale devo prego una qualunque ma sbrigati Ok, prendo questa Ah, ah, evviva Ah, merda Gex è una merdaccia in confronto a me Ehi, potrei tenermelo Oh, wow, tipo erba? Che scelta del cazzo, amico Mi puoi solo succhiare il cazzo, amico Ehi, conosci già la differenza tra i tetti blu e i tetti rossi? Di che sono sta impronta? Vediamo, al percorso 103 ho trovato questo Pokémon E al percorso 102 questo tizio morto Ehi, vera, giusto? Il professor Birch mi ha detto di andarti a cercare Ciao, un nuovo amico! Ti piace il mio Pokémon? Dai, combattiamo! Vuoi combattere? Sicura tu non voglia mostrarmi la tua collezione di bambole Pokémon E la tua cover preferita di Wondercall su YouTube? Perché sono una ragazza Beh, stavo parlando per stereotipi, però... In piedi, puttana! Oh, sembra che tu non piaccia alla mia coda Mi hai sconfitto, ben fatto! Ehm, scusami, ma ho come la sensazione che la nostra rivalità sarà noiosa ed incredibilmente monotona Cazzo se è veloce! Eccovi un Pokédex, ragazzi È assolutamente legale Ok, è una calcolatrice? Sì, e adesso puoi partire e battere tutte le fi... Leghe Pokémon E collezionare 7 miliardi di Pokémon Ecco, prendi le mie palle Oh, grazie! A cosa s... Vorrei mettertele in bocca Che cosa? Beh, mettele nella zaino! Sei sicuro di non aver bisogno delle scarpe da corsa? Potresti usarle per... Correre... Ma, ma, la gente ha imparato a correre da sola dal 2013 Dunque, per quale motivo è all'improvviso sentito il bisogno di viaggiare per il mondo proprio adesso che ci siamo appena trasferiti? Perché mettersi a combattere la gente con animali magici sarebbe anche molto più pratico che... Rimanere seduti e studiare al college Ok... Beh, quando vedi tuo padre potresti per favore dirgli che voglio il divorzio? Eh? Mi spiace, troia, ci ha bottiti con mazza! Non vogliamo la tua carità! Colpo a coda! Ehm, ehm... Ehm, me li affanculo! Ehi, Vera, potrei chiederti una cosa? Che c'è? Che genere di rapporto hai con tuo padre? Ah! Che intendi dire? Non saprei? Fate tante cose assieme oppure non... Ah! Guarda là! Cavolo, Ken! L'hai disegnata proprio carina! Allora, che cosa dicevi? Beh, volevo chiederti se tuo padre è carino! Cazzo! Non stavo facendo niente, agente! Allora, questo è New Jersey! Tchè... Ma guardalo! È stata una bella lotta! Vedi di sfidarmi quando sarai meno stupido e farai meno schifo! Ma muori, troia! Ciao, papà! Ah! Se non è mio figlio Brandon, bello come il sole! Cosa ci fai qui? Allora, il trasloco con tua madre è andato bene? Sì, grazie per l'aiuto! Sì, grazie per l'aiuto! Beh, figliolo, guarda! Lo sai che le cose sono difficili ultimamente, ma... Lo so, papà, non parlarmi come se avessi dieci anni! Ah, come sta tua madre? Lei sta... Benissimo! Anche... Fin troppo! Ehi, man, a che cazzo devo rompere il culo, man? Che cazzo è questo qua, man? Noto che stai iniziando a creare il tuo primo team! Proprio come il tuo vecchio! Sai, quando eri un bambino... Oh, no, ti prego! Credevo che avresti fatto solo quegli stupidi concorsi di bellezza Pokémon! Ah, che cosa che hai? E dai, è imbarzante! Ah, avrei dovuto chiamarti Britney! Eh, chiedo scusa, vorrei avere un Poké Bird! Cazzo, no! Vattene subito! Oh, ma... Sei lino, giusto? Oh, sì! Ho intenzione di diventare stronzo per poter convivere con... Ma che cazzo? Sapete? La mia famiglia! Quelle persone che... Dicono di conoscerti bene, ma in realtà non sanno nulla! Che ti terrorizzano, ma ti sfamano comunque... Eh, Brandon, dovrei insegnargli a catturare un Pokémon! Avrò bisogno di un Pokémon con me e così non verrò stupolato più alla stazione dei bus! Potresti essere meno dettagliato, amico? Oh, ecconi uno! Hey, Pokémon fans, Tomaschi here! Recentemente... Ah, ma che cazzo! Oh, io pensavo fosse un Pikachu! Ok, ok, guarda, perché non provi a prendere uno di più? Oh, oh, sì! Fuori dalla mia strada, madafucka! Sè, sì, benvenuto in team! Grazie per avermi insegnato a catturare i Digimon, vanno! Papà, ti prego, potremmo parlare un attimo assieme? No, figliolo! Fuo che sei abbastanza grande da competere col tuo vecchio, ma come quinto capopalestra non posso assolutamente permetterti di sfidarmi finché non avrei ottenuto le prime quattro medaglie. Papà, sono serio, riguarda la mamma, lei vuole di... Mi spiace, figliolo, ma non posso nemmeno parlarti finché non avrei battuto le prime quattro palestre. Bye bye! Sei nei guai? Sta zitto, Lino. Dov'è la prima palestra? Eh, credo si trovi... Molto figo, ci vediamo mai. Sono così ricco che posso sprecare tutte le mie ricariche totali sui miei Pokémon più scarsi. Mangio la mia costosissima merda. Scusami, figliolo. Per favore, mi faccia passare. Hai per caso visto il mio sroomish in giro? Ahah! Ti stavo aspettando, ma non l'ho fatto. Ora mulla quei fogli. Go! No! Sono stato sconfitto. Eccoti un fighissimo condivisore esperienza. Non ha importanza. Sarà meglio che vado. Penso proprio che andrò a Ferrucipoli e ti aspetterò lì. Me la pagherai molto, cara. Sono io. La signora Courtney potrebbe avere un problema. Ciao, Brandon! In questa città ci sono... le pietre! Non avrei mai pensato che qualcuno potesse mai dirmi una cosa del genere. La mia pietra lieve mi ha fatto diventare anoressico. Ok, voglio sfidare il vostro capopalestra. Ma sei stupido o cosa? Questa è una scuola media. Sono qui per prendere medaglie e spaccare i culi. Dimmi, ti piacciono le rocce? Non particolarmente, no. Beh, te ne farò ingogliere un po'. Ok, fai un attacco. Ciao, ciao, bro! Beh, sembra che io abbia bisogno di studiare di più. Mi sa di sì, sai, non sapevo che cosa stavo facendo eppure ti ho battuto. Ah, fottuto giocatore casuale. Ehm, vediamo che cosa abbiamo qui. Questo è palloso. Come se non avessi visto niente. Ehm, non ho amici. Quindi tutto sarebbe stato preso palesemente da XY. Ehm, quello sembra importante. Ehi vecchiaccio, che cosa succede? Oh, porca puttana, quei cosplayer vestiti di rosso hanno rubato il mio piccolo peveco. Tornate a quel vecchio il suo, Pico. Ehm... Ehm, il crollo della caverna ha ucciso Pico. No, porcaccia di quella troia, il mio peveveveco l'amore della mia vita. Come farò senza di te? Ok, ora vieni a leggere i miei libri piccolo insolente. Ok, ok, indovina cos'è. Allora, vediamo. Ok, allora, bene amico. Ehm, è figo amico. Lo fanno tutti amico. È bellissimo, è figo ed è trendy. Ehm, tiro ad indovinare. Ehm, forse l'inseminazione artificiale.